Piazza Andrea Costa è uno dei cuori pulsanti del commercio al dettaglio agroalimentare fanese. Oltre ad essere sede durante i giorni di mercato di varie bancarelle, sotto le logge del palazzo sede di uffici, tributi e dell'ente carnevalesca, lo storico mercato ittico dove sono presenti ben 12 operatori. Considerando tutto questo si capisce bene la mole di gente che quotidianamente frequenta piazza e loggiato. A questi poi vanno aggiunti anche i turisti che in questo periodo soggiornano in bed and breakfast o in camper e che fanno acquisti giornalmente. Ma in questo confortante quadro che esprime vivacità commerciale c'è una zona buia ed è proprio la struttura centrale, ovvero quella che ospita il mercato ittico, il quale, ci dicono gli operatori ambulanti che giornalmente sono presenti qui, è irrimediabilmente ostaggio dei piccioni, i quali soggiornano su cornicioni e sottotetto sporcando costantemente e massicciamente, con i loro escrementi, i passaggi pedonali causando anche, è successo in passato, cadute accidentali a malcapitati e presentano però anche uno spettacolo ai passanti indecente per un luogo dove si maneggiano alimenti freschi e deperibili. E' brutto, è brutto, basterebbe secondo me poco, una pitturata, un po' più di decoro, sì, che il centro città è bello, la città è bella secondo me, ma un po' di decoro ci vuole. Perché all'interno effettivamente mostra i segni del tempo, insomma c'è un po'. Mostra il segno del tempo, sarebbe ora secondo me di pitturarla e di pulirla più spesso, perché scusate ma i piccioni cagano tutti i giorni, non è che cagano una volta ogni tanto, allora pulirla tutti i giorni. Ci sono dei dissuasori posizionati in alcuni punti strategici, anche il filo elettrico a bassa tensione, ma tutto questo non sembra sortire alcun effetto sui pennuti che stazionano e defecano indisturbati. Gli operatori ittici, dal canto loro, per garantire un minimo di decoro, sono quotidianamente impegnati a tenere puliti i loro spazi, ma questo non è sufficiente. Questa mattina, nonostante ieri ci fossero stati gli operatori ecologici, che vengono due volte a settimana, lo spettacolo non era dei più edificanti. Si impieni di cacca di piccioni, insomma, se ne puoi più. Noi la mattina arriviamo, puliamo per terra, che è un macell, andiamo via, puliamo, però la mattina è sempre sporco, per i piccioni purtroppo fa loro, però ci volevano proprio pulizia, ma vengono poco, un bel po'. Intensificare quindi gli interventi di pulizia, ma anche fare interventi di ristrutturazione su parti ormai faticenti del fabbricato, perno centrale della piazza e quindi identità della stessa, come attorno ai due vasconi in pietra, o ritinteggiare i loggiati per offrire uno spettacolo e un luogo decorosi per turisti e anche per fanesi.